Il presidente russo Vladimir Putin torna sulla scena pubblica dopo una misteriosa assenza di alcuni giorni. La TV russa ha mostrato le immagini di un suo incontro con il leader kirghizzo a San Pietroburgo. Senza pettegolezzi ci si annoia, ha detto Putin, commentando le voci che sono circolate sulla sua assenza. Secondo alcuni blogger, il presidente russo, visto in pubblico l'ultima volta in occasione della visita del premier italiano Matteo Renzi, sarebbe stato in Svizzera in concomitanza col parto di quella che viene presentata come la sua compagna. Versione però smentita da una televisione, secondo la quale la misteriosa assenza di Putin sarebbe stata dovuta ad un attacco influenzale.